Un'evasione fiscale per oltre 1.200.000 euro legata ad affitti in nero sull'Elba è stata scoperta dalla Guardia di Finanza durante un'articolata attività di polizia economico-finanziaria condotta dalle fiamme gialle della compagnia di Portoferraio. Denunciato all'autorità giudiziaria, un agente immobiliare albano, che gestiva circa 200 appartamenti nelle prestigiose località turistiche di Marina di Campo, Procchio e Secchieto. Gli inquirenti, che hanno avviato le indagini all'inizio del 2011, avvalendosi di tracce documentali, di pagamenti degli affittuari, ma anche di dichiarazioni tramite questionari rilasciate dagli stessi clienti dell'immobiliarista, hanno potuto accertare che l'agente affittava gli immobili in questione senza registrazione di nessun contratto e senza dichiarare alcuna rendita. Inoltre, lo stesso agente assicurava ai turisti in vacanza servizi alberghieri e accessori quali cambi di biancheria e pulizia delle camere, rigorosamente tutti in nero. Ai proprietari delle case date in locazione, l'agente garantiva un corrispettivo fisso per tutto il periodo estivo, trattenendo per sé i ricavati delle prestazioni alberghieri e accessorie. A carico dell'immobiliarista Elbano è stata quindi contestata un'evasione per IVA non versata di 315.000 euro, erediti imponibili non dichiarati per 1.238.000 euro per il biennio 2008-2010. A ciò si aggiunge la denuncia all'autorità giudiziaria di Livorno dell'agente immobiliare per reati tributari come dichiarazione in fedele ed occultamento di documenti contabili. All'agenzia delle entrate sono stati invece segnalati più di 420.000 euro per canoni di locazione non dichiarati da 149 proprietari di immobili dati in affitto, sempre nel periodo compreso fra il 2008 e il 2011.